Erano dei perfetti estranei, finché un giorno... Voi cinque siete fratelli. Ora... A me questo era solo altri 15 anni d'analisi, tanto me li paga lei, no? Per l'eredità milionaria di un padre sconosciuto... Dore andate? In America! Eh, papà... Non l'ho prendeto? Avranno tutto il tempo di conoscersi, fino in fondo. Out for lung. E che for di? For vuol dire quattro, one, two, three, four. For di che riaprei ai quattro. Ciao, ragazzi. Ragazzi? Per questo per frugge. Antonio, non fai niente! Sì! Ragazzi! Ma che cazzo parli col commissario Rex? Mi piacciono le emozioni forti. Ma c'è papà. Ma vaghi? Il nostro. Ragazzi... Questa è la terra degli dei Navacos. Li fomenti i Tex Wiener. Buono! Ma che ti sei fumato? Il calumet è la fase! Hi, guys. No, no, io ho una fissazione. Ma non siamo gay. Guardi che fa il cena maschio che c'è. Questa è la boutique del pistone. A gennaio... Ci sono gente... Di un mare ducato, guarda. Perché non ce lo so. Regalatevi un viaggio. Quanto a Cavani? Che cavani c'è il casco? Che è venuto un motociviletta? Con tutta la famiglia. Ti parla, sta a gioco! Ma... Non ti sento. Parla più forte. Stai parlando con me? Io, fratelli come voi, non ne voglio. Mamma mia! Non mi manca di me! Ho conosciuto un uomo. Mi permette di darti due consigli così da sorella a sorella? Allora, il primo. Non arrivare mai puntuale ad un appuntamento. Il secondo? Pagliela! Mai Stati Uniti. Un film di Carlo Vanzina. Hi guys! Ancora? O che è sta bar dracu? Dal 3 gennaio al cinema.